La mafia non si radica solo nei capoluoghi, ma anche nelle zone interne della Sicilia. Leonforte, piccolo paese abbarbicato sulle montagne dell'Ennese, 13.000 gli abitanti, è stata al centro di tre importanti operazioni antimafia coordinate dalla DDA di Caltanissetta, Icaro, Omonovus e Capuzzilente, l'ultima che ha fatto scattare 30 avvisi di custodia cautelare, droga, estorsioni, minacce. Nell'aula consigliare dedicata a Placido Rizzotto, le autorità civili e militari, il sindaco di Troina, Fabio Venezia, il presidente dell'antiracket di Gela, hanno parlato della realtà del loro territorio, al presidente Morra e all'onorevole Aiello che l'ascoltavano. Leonforte ha avuto numerose intimidazioni nel corso degli anni, soprattutto anche per i pubblici amministratori, così come racconta il sindaco del paese. Minacce personali, lei mi raccontava delle minacce ad alcuni dipendenti, delle denunze. Delle minacce personali no, due anni fa l'allora vice sindaco subì un atto particolarmente cruento, gli fu bruciata la macchina, così come anche un assessore, un altro assessore, sempre due anni fa, parliamo del 2019, e un nostro collaboratore subirono dei graffi nelle loro macchine. La storia di Gaetano Debole della sua denuncia a Del Surreale. Tre anni fa l'imprenditore denunciò la richiesta di tangenti da parte del provveditorato per le opere pubbliche della Sicilia. Adesso Debole non lavora più con le pubbliche amministrazioni, non viene più invitato alle gare. Ha fondato un'associazione antiracket, ma ancora troppo poche le denunce. Le persone stendono a denunciare, o meglio ancora, anche se hanno problemi estorsivi, negano il fenomeno. Perché preferiscono la tutela della mafia alla presenza dello Stato, non ci credono? Ma più di questo io penso che sia una questione di convenienza in questo momento, perché loro magari, essendo che sono vicini all'ambiente mafioso, si garantiscono forniture, si garantiscono protezione, si garantiscono molto altro.